Entro il 2019 potrebbe riaprire la cava dei dinosauri di Altamura, sito di importanza mondiale, dove nel 1999 furono scoperte oltre 50.000 impronte direttili vissuti 70 milioni di anni fa. Durante l'Open Day, il segretario regionale del MIBACT, Eugenia Vantaggio, ha annunciato che la cava di proprietà privata è stata recentemente acquistita dal patrimonio culturale ed è stato così stanziato un milione di euro per la messa in sicurezza e la tutela delle orme. Il segretario regionale ha spiegato inoltre come sono stati spesi nel 2016 circa 19 milioni di euro per tutti gli interventi in corso. Tra le prossime tappe più rilevanti ci sono il passaggio del Teatro Margherita e dell'ex mercato del pesce di Bari, dal De Manio al Comune. Il presidente della Sesta Commissione Culturale e consigliere regionale della Puglia con Emiliano, Alfonso Pisicchio, ha commentato l'annuncio dichiarando Un'ottima notizia che valorizza il nostro patrimonio dopo anni di battaglie ambientaliste, dopo anni di sofferenze e una vittoria della cittadinanza attiva della Puglia. Sottolineando che questo straordinario sito potrebbe essere fruibile entro la data del 2019 e una straordinaria opportunità di crescita culturale e sociale. Il 2019 potrebbe diventare il nostro anno Felix con la vicina Matera, capitale europea della cultura. Per questo occorre che la regione Puglia attivi da subito con il Ministero e Beni Culturali un capillare programma di promozione per ammirare le 50.000 impronte presenti nel sito e che sia in rete con la Basilicata. Pisicchio ha infine dichiarato Non ci sono buone notizie per il Museo archeologico di Santa Scolastica a Bari dato che il bando per l'ampliamento e i lavori del piano terra e del primo piano va rilento. Pertanto il mio appello va all'ente proprietario del sito, la città metropolitana di Bari. Faccia presto e in fretta, per restituire alla città questo scrigno di preziosi aperti potrebbe diventare il volano del turismo e della cultura barese.